Oggi andiamo a vedere come ricevere dei V-Buck gratuiti Quindi rimanete in questo video che se anche voi volete questi V-Buck dovete guardare assolutamente questo video Intanto mi arrivano le notifiche Quindi, quindi, quindi ragazzi cosa dovete fare è iscriversi con la campanellina Ora dovete farlo ragazzi, ora in questo momento Quindi andate a mettere il codice, supporto un gradore con il Gamer 501.2 Allora, ora andiamo a vedere come ricevere dei V-Buck Tutti vogliono ricevere questi V-Buck ora in questo momento Quindi dovete seguire questi passaggi Allora, dovete andare qui Quindi se volete ricevere appunto questi V-Buck Questo regalino con questi V-Buck Quindi volete questi V-Buck Dovete assolutamente andare qui sotto e scrivere Ciao, per esempio Video Quindi, ciao ricevuto V-Buck con questo video Inviate i vostri amici ora in questo momento Quindi volete fare Questa dovete fare raga E' molto molto semplice Andare a mettere questo codice Ora questo codice che trovate qui Vi piace dovete andarlo a mettere Sto scherzando ragazzi Incondividete e lasciate un bel like Che dovete fare assolutamente questo Tra 5, 4, 3, 2, 1 Quindi ragazzi Mi raccomando Oh cavolo La Nelidriter Vabbè Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi